Buongiorno amici di Striscia, bentornati a una nuova puntata di Striscia e Dono con Espedito Giaccio e Sara in piano. Oggi parleremo di un argomento che sotto gli occhi di tutti quanti c'è la difficoltà dei disabili a compiere delle opzioni che per noi sono semplici. Infatti Sara, è impensabile che ancora oggi dobbiamo parlarvi di così tanta inciviltà sociale. Adesso passiamo alla linea alla nostra inviata Liliana che ha qualcosa da dirci su questo. Buongiorno amici di Striscia, siamo su uno dei tanti libri di vaccatura in provincia di Napoli per mostrarvi come è difficile l'accesso per i disabili alla spiaggia. Vediamo un po' com'è la situazione. Siamo tornati qui insieme a Cristian e Giovanni per mostrarvi come è praticamente impossibile l'attraversamento alla spiaggia. No, veramente, è una cosa impossibile. C'è una cosa che dovrebbe essere così facile per tutte le persone e diventa così difficile per loro. L'accesso a lì dovrebbe essere garantito a tutti. Da qui è tutto, linea allo studio. Buongiorno amici di Striscia, siamo qui da Pozzuoli in provincia di Napoli per parlarvi del volontariato e come i giovani si impegnano per il sociale. Siamo qui con Alessia e Giuseppe. Ho iniziato questa avventura per capire cos'è realmente il volontariato. Tu invece Giuseppe, perché hai cominciato? Ho iniziato a fare volontariato per aiutare gli altri e questo mi ha fatto sentire meglio. Vedete, è così semplice fare volontariato, perché non lo facciamo tutti? Da Pozzuoli è tutto, linea allo studio. Grazie al nostro inviato Francesco per questo servizio. Abbiamo solo da imparare da questi ragazzi. Dovremmo donare una striscia del nostro tempo per rendere il mondo un posto migliore.